Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Ben trovato Presidente. Salve a tutti, grazie e buona settimana. Allora, arriva la carta acquisti spesa 2023, qual è il criterio per averla? Allora, in primo luogo dobbiamo chiarire che nessuno deve fare niente, nel senso che non c'è bisogno di fare nessuna domanda. I comuni, in collaborazione con l'Inps e poi con le poste, faranno una selezione automatica e quindi non c'è bisogno che le persone per ottenerla si attivino. Bisogna avere comunque un ISEE massimo di 15 mila Euro, non bisogna essere percettori di reddito, di cittadinanza o di altre cose similari. Bisogna avere un nucleo familiare minimo di tre persone. Dobbiamo dire che la carta deve essere spesa esclusivamente per fare la spesa essenziale, quindi praticamente di generi alimentari, addirittura sono esclusi gli alcolici dalla carta di acquisto. Il primo acquisto deve essere effettuato entro il 15 settembre, appena la decadenza della carta. Questa è proprio una carta a sostegno delle persone che hanno difficoltà economiche e quindi è anche giusto che si comprino beni di prima necessità. Una buona notizia arriva per quanto riguarda la detassazione di straordinari stipendi e tredicesime, quindi ci sarà un beneficio per i lavoratori dipendenti? Diciamo che questo è ancora disegno di legge, diventerà legge al più presto, questo mi sembra sia la percezione, naturalmente il fatto che gli straordinari, le tredicesime, vengano detassate. Si tenga presente che sulla tredicesima in genere incidono intorno a 200 Euro di tasse, quindi a Natale i lavoratori dipendenti, pensionati, prenderanno 200 Euro in più sulla tredicesima. Per quanto riguarda gli straordinari, anche questa è una buona notizia, perché naturalmente essere detassati del lavoro straordinario significa comunque prendere dei soldi in più. in aggiunto al fatto che comunque c'è stato dal mese di luglio in poi l'abbassamento del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, significa comunque ammortizzare in parte quelli che sono stati i danni della svalutazione e dell'inflazione, naturalmente. Certo, la detassazione di straordinarie tredicesime avverrà per fasce di reddito? Almeno si presunta? Fino a 35.000 Euro, sì. Fino a 35.000 Euro. Veniamo a parlare dei mutui, noi sappiamo che con il rialzo dei tassi tante famiglie sono in difficoltà, l'abbiamo ripetuto tante volte anche con lei, e c'è bisogno di misure a sostegno di queste famiglie e soprattutto obbligare le banche a fare la surroga o comunque a mettere in atto tutte le misure per aiutare coloro che sono in difficoltà, ma così non è. C'è in previsione una legge per questo? Incominciamo col dire che in Campania soltanto il 12% dei mutui sono stati fatti a tasso variabile, quindi è evidente che le famiglie e le persone prevedono che ci sia ancora un'inflazione alta per i prossimi mesi o ancora per un anno, un anno e mezzo, dobbiamo dire che però il governo sta cercando di costringere tra virgolette le banche a fare le surroga e quindi a cambiare le condizioni del mutuo, sia per la surroga, ricordiamo che va fatto presso una banca diversa, o rideterminare il mutuo stesso presso la stessa banca. Il problema serio è che bisogna trovare il modo di costringere le banche a fare tutto questo perché ad oggi purtroppo non è così, ma ancora un problema da evidenziare e a cui il governo secondo me deve porre rimedio è il fatto che per poter ottenere la rideterminazione o la surroga bisogna essere a posto con le rate di pagamento, cioè non bisogna aver saltato neanche una rata e di questi tempi, ahimè per chi ne ha bisogno è molto molto difficile avere questo tipo di condizione. Passiamo ad un altro argomento altrettanto importante, le ZES, le zone economiche speciali hanno portato una boccata d'ossigeno in tanti luoghi e stenderle a tutto il sud potrebbe essere un fatto assolutamente positivo per i benefici che produce. È una idea che lei lanciò proprio nel corso di una puntata di Lente di Ingrandimento, la nostra trasmissione di approfondimento giornalistico, in cui parla Damo, appunto, delle ZES. Era presente anche il commissario straordinario di governo. Devo dire che di questo sono molto contento perché abbiamo cercato di anticipare i tempi, quindi evidentemente siamo ascoltati dalle istituzioni, ma non parlo di me, parlo ovviamente anche delle trasmissioni che attraverso Televomero, attraverso te facciamo e quindi evidentemente significa che siamo ascoltati dalle istituzioni, perché evidenziamo proprio il problema, sì è vero, chi si va a insediare all'interno delle ZES, diceva naturalmente dei vantaggi burocratici, iniziare un'attività, ma veramente questa volta in 24-48 ore, avere degli sgravi sia contributivi per quanto concerne l'assunzione di lavoratori, ma anche degli sgravi fiscali, quindi una fiscalità di vantaggio. Però poi noi evidenziamo che proprio perché parlavamo del Sud, parlavamo delle ZES, non potevamo, come devo dire, fare in modo che chi si andava ad insediare praticamente in quelle zone, cioè le zone portuali e metroportuali, riceveva questi vantaggi, ovviamente a scapito di chi già operava all'interno delle zone limitrofe, quindi praticamente evidenziamo anche il gap che esiste tra nord e sud, per cui lanciamo l'idea che l'intero sud doveva essere una zona economica speciale. Sono contento, ci hanno ascoltati. Allora, noi la salutiamo, la ringraziamo e speriamo veramente che tutte queste misure messe in atto dal governo possano in qualche modo risollevare un'economia in crisi con un'inflazione ancora troppo alta, per dirci sicuri, da una recessione. C'è ancora tanto da lavorare. Grazie, noi ci vediamo come sempre lunedì prossimo. Buon lavoro, arrivederci. Grazie a tutti.